Se tu hai una vita perfetta a livello razionale, ma non hai la trasgressione emotiva, non hai quella tensione che si nutre l'inconscio, ovviamente ti rompi le scatole. Perché? Cosa vuol dire? Se non fai niente tutto il giorno, dopo qualcosa ti inventi per creati dei casini, perché ti annoi, ti rompi le scatole. E a livello, diciamo, più funzionale, più pratico, qual è il tuo discorso? Che l'inconscio non si nutre di polli, di galline, di carne, il tuo corpo si nutre di galline, ma l'inconscio si nutre di emozioni. Quindi se tu hai una vita piatta, calma, tutti i giorni, ovviamente l'inconscio viene a bussare alla tua porta e ti dice Ehi, mi dai da mangiare? Mi dai da mangiare? Mi dai cibo?